Oggi, domenica 9 maggio, sono stati riscontrati in Abruzzo 145 nuovi casi positivi al coronavirus, di età compresa tra i 10 mesi e gli 89 anni, che portano a 72.516 il totale delle persone contagiate dall'inizio della pandemia. 48 nuovi casi in provincia dell'Aquila, 35 in quella di Chieti, 7 in provincia di Pescara, che resta la meno colpita, 53 casi nel Terramano, con due residenti fuori regione o con residenza in corso di accertamento. Sono stati eseguiti 4.369 tamponi molecolari e 2.262 antigenici, per un totale di 6.631 test nelle ultime 24 ore ed un tasso di positività che rimane basso al 2,2%. Tre le persone che hanno perso la vita, di cui una risalente ai giorni scorsi, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia, a 2.437. In aumento di 17 unità ai guariti, che raggiungono quota 62.132, pertanto gli attualmente positivi, 125 in più, sono 7.947. Rimane in tendenza calante il carico sulle strutture ospedaliere. Sono 271 ad oggi ricoverati in area medica, 10 meno nelle ultime 24 ore, 28 ricoverati in terapia intensiva, dato invariato rispetto a ieri, mentre gli altri 7.648 positivi in Abruzzo sono in isolamento domiciliare, 135 in più nelle ultime 24 ore.